E si amici, sei fuori casa, addirittura fuori città, per dei problemi alla mogliere di solito, ma tutto risolto è benissimo. Prendi una casetta, compri da mangiare perché se non uscire il crocote al giorno rischi di accendere un uomo. Che cosa ti fai? Frittatore, patate, cipolle. Quindi friggi le patate, friggi la cipolla, fai un mix di uovo sbattuto, parmigiano, prezzemolo, pepe nero schiacciato al momento con un cortello. Unisci il tutto, amalgama, prezzemolo, spadelli un poco, metti l'uovo ed eccola qui ragazzi, sua maestà la frittatona. Prima devi riposare, mi raccomando che la frittata devi sempre riposare. Mi taglio un bel pezzo, la faccio vedere prima e poi mi c'è un bel chianti classico e vai all'assaggio morbidissimo. Vediamo come se vado a voi. Gnammete. Ebbè. Ebbè. Alla vostra salute amici.